I lavoratori della Galileo Pasini sono scesi in piazza del popolo a Ravenna per protestare contro la decisione di chiusura dell'azienda e il licenziamento di tutti i lavoratori. Qual è allora la situazione? Sono tra 82 che sono in impresa Pasini, è andata bene fino agli anni 2002-2003, poi dopo piano piano iniziata la crisi, siamo stati oltre anche 100 dipendenti e poi con l'andare degli anni, con la crisi in aumento, con la chiusura dei finanziamenti da parte delle banche e altre cose siamo arrivati a essere in 40-50, fino a due anni fa che hanno lasciato a casa altre 11 persone e attualmente siamo rimasti in 30. Vado meglio degli altri che la moglie che lavora, ma dei problemi ne ho anch'io, speriamo di venire collocati al più presto là dentro se c'è la possibilità. Chiedo di essere ricollocato da qualche parte, magari aspettando magari una settimana, qualche cosa, ma subito di trovare un posto. Il presidio, organizzato da Fillea CGL, Filca Cisle e Finea Will e dalla RSU della Galileo Pasini, è stato realizzato in concomitanza con il tavolo di crisi convocato del Comune, al quale, oltre all'assessore Massimo Camigliani, ha preso parte anche la direzione aziendale.